Va ora in onda Radio Speranza Notizie, a cura della redazione giornalistica. Il bilancio dei pazienti deceduti non registra nuovi casi e resta fermo a 3.387. I dimessi ugualiti sono 670 in più, gli attualmente positivi 2.920 in più. 180 pazienti, 6 in più sono in ospedale, mentre 6, 1 in più, sono in terapia intensiva. Gli altri invece sono in isolamento domiciliare. Eseguiti 1.794 tamponi molecolari e 10.829 test antigenici. Lo sgombero della palazzina di Via Lazio a Montesilvano rappresenta un momento storico che ci sta consentendo di restituire dignità e vivibilità a un'area centrale sensibile della città di Montesilvano, a due passi dal mare e ai suoi residenti esasperati da presenze abusive e dal degrado abnorme della struttura. Abbiamo voltato pagina mentre polizia, vigili urbani e istituzioni di Montesilvano provvedevano all'allontanamento dall'edificio degli ultimi abusivi. Il comune di Pescara ha coadiuvato l'intervento della ditta che ha iniziato a murare con ferro e cemento armato gli alloggi di nostra proprietà, rendendoli inagibili gli servizi e staccando tutte le utenze. Da oggi ci sarà anche un servizio di vigilanza armata per impedire future rioccupazioni e nei prossimi giorni, come preannunciato, provvederemo a pubblicare l'avviso di interesse per la vendita della nostra porzione di edificio al prezzo a base d'asta di 1.400.000 euro. Lo ha detto l'assessore alla politica della casa del comune di Pescara, Isabella del Trecco, che ha presieduto le operazioni di sgombero dei 14 appartamenti di Via Lazio e Montesilvano, sette dei quali sarebbero stati occupati da due persone, gli altri invece da famiglie numerose, per gli occupanti di questi edifici è stato predisposto l'accompagnamento in strutture idonee e nei prossimi giorni appunto si valuterà il da farsi sulla situazione. La società pretuziana di Teramo gestirà le piscine Lenaia di Di Pescara per un altro anno. Nelle ultime ore la regione Abruzzo ha ufficializzato, come annunciato dalla stessa società sportiva, la proroga di un anno del bando di gestione degli impianti. Abbiamo rimesso in sesto la struttura, spiega Domenico Narcisi, che è il direttore generale della pretuziana, e quindi prevediamo, ha aggiunto delle ottime cose per la seconda parte del 2022 e fino al prossimo agosto. Abbiamo in calendario eventi e per l'occasione pochi giorni fa abbiamo aperto anche il Parco delle Naidi. Pensiamo, dopo quest'estate, di ripartire poi per la nuova stagione con 4-5 mila tesserati. Presenteremo prossimamente a concluso un project, ovvero una proposta di gestione delle Naidi pluriennale per poter intavolare un discorso più articolato con la regione su una gestione di più anni. Un'intera giornata dedicata alla Maiella e alle sue caratteristiche per conoscerne la storia e l'ambiente e soprattutto sapere cosa si fa per tutelare il secondo e tramandare la prima. Si intitola Il giorno della memoria. Conoscere il Parco, l'evento in programma venerdì prossimo 8 luglio all'Aurum di Pescara a partire dalle 10 con cui l'ente Parco nazionale della Maiella si racconterà affidando ai protagonisti il compito di descrivere peculiarità, parlare di fruibilità, storia, cultura e biodiversità e illustrare i progetti in atto e futuri. Parteciperanno Presidenze e Direzione dell'Ente, Consiglio Direttivo dell'Ente, Sindaci dei Comuni del Parco e Tecnici del Parco. Alle 12 sarà presentato il libro Pacentro e Longobardi in Abruzzo alle origini della Corsa degli Zingari di Andrea Staffa. Seguirà l'inaugurazione di una mostra fotografica sulla storica Corsa degli Zingari di Pacentro. Un incendio è divampato nelle campagne di Marina di Città Sant'Angelo al confine con il territorio di Silvi a ridosso del fiume Piomba ieri pomeriggio sul posto operative due squadre dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Pescara. E con la firma del verbale di consegna alla ASL del fabbricato La Rosa di Via Valle Furci nella zona dei Colli ha preso corpo il progetto che prevede la realizzazione di un centro di urno e di un gruppo di appartamento che saranno gestiti dal competente centro di salute mentale dell'azienda sanitaria. Il documento che segue il contratto di concessione in uso dell'immobile risalente allo scorso 23 giugno è stato sottoscritto dal sindaco di Pescara Carlo Masci e dal direttore generale dell'ASL Vincenzo Ciamponi alla presenza dell'assessore comunale al patrimonio Maria Rita Carota della dirigente comunale di settore Federica Mansueti di Antonio Busic e Alessandro Di Giovanni rispettivamente direttore funzionario dei servizi tecnici manutentivi dell'ASL. La convenzione tra ASL e comune avrà una durata di 19 anni da oggi rinnovabili e prevede che l'azienda sanitaria realizzi un intervento edilizio sulla struttura investendo per la riqualificazione una somma complessiva di 340.000 euro di cui 276.000 per lavori e per l'attuazione dei piani di sicurezza. In cambio la stessa ASL godrà di un canone di locazione abbattuto a 30.596 euro all'anno al netto delle spese scomputabili che ammontano a 224.000 euro. Una formula già usata in operazioni simili come quella tuttora in corso di recupero di un immobile comunale nell'area della Consorzio Ternum per realizzare la sede del servizio 118. Le pallotte Caceove, eccellenza gastronomica del territorio attiatino diffusa in tutto l'Abruzzo avranno uno disciplinare ufficiale un verbale finalizzato al deposito e alla registrazione della ricetta tipica sarà firmato il 7 luglio alle 18 in prefettura Chieti alla presenza del prefetto Armando Forgione e del vicepresidente vicario dell'Accademia Italiana della Cucina Mimmo D'Alessio la codifica che indicherà ingredienti il procedimento per ottenere il vero piatto tradizionale di pallotte Caceove è frutto del lavoro della delegazione teatina guidata da Nicola D'Auria che è anche il coordinatore territoriale dell'Abruzzo e dell'impegno della professoressa Gabriella Orlando consultore della delegazione di Chieti. E veniamo alle previsioni del tempo sull'Abruzzo si prevedono condizioni iniziali di cielo sereno poco nuvoloso, specie al mattino mentre nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio sono attesi annuvolamenti lungo la dorsale appenninica con rovesci e manifestazioni temporalesche che potranno estendersi verso l'Aquilano Valle Peligna e sulle zone pedecolinari che si affacciano sul versante adriatico non si escludono fenomeni di moderate intensità in attenuazione in serata e nottata nella giornata di domani assisteremo a un moderato peggioramento delle condizioni atmosferiche soprattutto nel pomeriggio sera e nottata con elevata probabilità di temperature di temporali di forte intensità specie sul settore adriatico e sulle zone montuose temperature in lieve diminuzione rispetto ai giorni scorsi tuttavia il caldo e l'afa verranno spazzati via soprattutto tra domani e dopodomani venti deboli mare poco mosso al mattino con moto ondoso in aumento dalla tarda mattinata i dati sono di abruzzometeo.org è tutto grazie per averci seguito a risentirci abbiamo trasmesso Radio Speranza Notizie a cura della redazione giornalistica